Due gol, un punto a testa, tante emozioni e numerose appassionate sugli spalti del pala di sfida Mario Borgia. Ecco come è stata la stracittadina numero 4 della storia tra Barletta Calcio 5 e Fuzz al Barletta, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Non è stato un derby bellissimo, ma è equilibrato ed aperto a qualsiasi soluzione sino al definitivo suono della sirena. Due le reti, entrambe nel primo tempo, vantaggio del Fuzz al Barletta con Iodice, abile a concludere nel migliore dei modi. Un'azione personale, pareggio del Barletta Calcio 5 prima dell'intervallo con la cocella, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Castiglioni sul precedente tentativo di calamita. Niente reti, ma tanti episodi nella ripresa. Le numerose occasioni da una parte e dall'altra che hanno esaltato le qualità dei due portieri. Il secondo giallo per simulazione, la conseguente espulsione di calamita per questo contatto con Ricco, il palo colpito in superiorità numerica dal Fuzz al con Falco, l'uno contro uno di Montenegro con Castiglioni e poi il contatto tra Borracino e lo stesso Montenegro non sanzionato dall'arbitro sarebbe stato il sesto fallo per il Fuzz al. È stato proprio l'attaccante del Barletta ad avere la peggio nella circostanza, 5 punti di suturalmento per lui e trasporto in ospedale per accertamenti. Abbiamo nettamente avuto più occasioni di loro. Sicuramente i ritmi bassi da parte delle squadre che hanno portato all'antattatura della gara hanno condizionato anche le finalizzazioni perché sono state poco incisive. Però c'è il rammarico che abbiamo avuto diverse occasioni limpide e nitide per poter fare i nostri risultati e non l'abbiamo fatto. Poi c'è da sottolineare anche la prestazione negativa da parte della terna arbitrale che sinceramente ci ha visto un po' penalizzato. Entrambe le squadre avevano timore di vincere questa partita perché i derby purtroppo la posta in paglio è sempre alta. Si poteva fare gol da una parte, si poteva fare gol dall'altra. Le assenze si sono anche viste troppo nel campo perché ci mancava il fulcro del nostro gioco che è il pivot di posizione. Però alla fine penso sicuramente è il risultato giusto. Vittoria netta nella forma e nella sostanza invece per il Fuzz albiceglie che supera 9 a 0 il Venafro al Paladolmen in una partita praticamente senza storia chiusa virtualmente già nel primo tempo. Nel festival del gol per la formazione di Francesco Ventura c'è spazio per la tripletta di Lemme, le doppiette di Pereira e Tortora e per gli acuti di Angelo Cassanelli e Mauro Cagianelli seconda vittoria consecutiva per il Fuzz albiceglie che scavalca il monte di Procida e sale in quarta posizione in classifica. Abbiamo iniziato con la testa giusta sin dall'inizio, giocando con carattere e finalmente abbiamo portato i tre punti che ci mancavano in casa.